. A Winston-Salem, i risultati della prima giornata . Mentre il bulgaro Grigor Dimitro prionfava per la prima volta in carriera in un torneo Master Mille, successo a Cincinnati, battuto in due set l'australiano Nick Kyrgios, l'avvicinamento del circuito maschile agli US Open di New York si completava con il via all'ultimo appuntamento sul cemento a stelle strisce. . . Up 250 di Winston-Salem, in North Carolina, occasione per rifinire la condizione in vista di Flushing Madoves e per raccattare qualche punticino per il ranking di singolare. . 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